Piano piano noi chiudiamo sempre un po' più di avanzamento nel passo in modo tale che riscaldano veloci. Un attimo di passo una carezzina e attenzione. Un attenzione a volontà gli altri possono cominciare a trattare di riscaldamento, a recuperare un contatto gentile ma che trattano un po' in distensione meglio.